Siamo veramente molto orgogliosi di questo accordo con Palacanestro Varese, sappiamo quanto questa società sia amata in città e ci piace essere associati a lei come fornitori di energia per la città di Varese. Già da tanti anni perché A2A è entrata sul territorio di Varese nel 2009 con l'acquisizione di Aspem e oggi opera sul territorio di Varese con Aspem Energia che ha 40.000 clienti nel territorio di Varese e dal 1 di gennaio del 2017 Aspem Energia diventerà tutti gli effetti A2A Energia e quindi questa operazione per noi è anche molto importante per comunicare proprio questo cambiamento. Non dovrei dirlo perché evidentemente questa è un'operazione di comunicazione, un'operazione commerciale, però sono un tifoso e quindi da tanti anni devo dire che ieri vedere il canestro A3 sulla sirena di Kangor è stata una soddisfazione non tanto da partner del canestro Varese quanto più da tifoso. Grazie a tutti!